Davide Apollonio al termine della tappa con arrivo a Teramo, raccontaci questa volata. Ma è stata una vera volata, negli 20 km sempre a tutta e abbiamo rischiato tantissimo. Si rischia veramente tanto le volate, dato che ci sono poche possibilità. Di nuovo un quinto o un sesso non lo so, però va bene così. Le emozioni della partenza dal tuo Molise? Eh sì, non capita per me molto spesso partire da professionista in Molise e ero molto contento di vedere tutta la gente che era tutta la più per me che per contato. Sono contento.